Appuntamento di quelli da cerchiare in bianco-rosso. Domenica prossima, 21 aprile, ore 18, al Pala Tagliate, si giocherà Basketball Club Lucca Borgo Manero. È l'ultima partita dei Play in Silver, con la quale il BCL potrebbe uscire di scena o essere traghettato nel play-off per tentare la scalata alla B-Nazionale. Coach Livieri e la sua truppa sono pronti a gettare il cuore oltre l'ostacolo, pronti a lottare. Sarà una partita vera con la voglia di vincere e di rifarsi anche della sconfitta subita all'andata. A decidere del futuro, però, dei bianco-rossi e di Capitano Barsanti non sarà solamente quanto accadrà sul parchè del Palasport di Lucca, ma quanto si verificherà anche sugli altri campi, in particolare alla Spezia, dove si giocherà in contemporanea come antica buona abitudine del tempo che fu. La settimana è di quelle belle intense, il gruppo si allena e lo fa tutti i giorni con particolare attenzione. Nulla viene lasciato al caso, ogni più piccolo aspetto studiato, provato e riprovato. A portare fortuna al Basketball Club Lucca si spera anche le centinaia di orsetti di peluche, che salteranno in campo al fischio d'inizio dato dagli arbitri e che verranno donati alla rappresentanza della pediatria dell'ospedale San Luca, presente alla partita per portare al pubblico la loro esperienza e vita vissuta in reparto con i bambini.